Secondo il Vasari, che certo se ne intendeva di arte e di artisti, Lattanzio Gambara era il miglior pittore del suo tempo a Brescia. Certo, per le generazioni successive invece questo nome è un po' oscuro, è stato un po' dimenticato. Oggi una grande mostra a Brescia cerca proprio di recuperare la sua memoria, la sua figura e la sua arte. Ecco allora che noi vogliamo cogliere l'occasione invece per ricordare, per far sapere che forse il capolavoro, comunque una delle opere più belle e importanti del Bresciano, Lattanzio Gambara, si trova proprio in terra ambrosiana. Si trova infatti nella collegiata di Santo Stefano a Vimercate. Ed è una meraviglia, un affresco che ricopre tutta l'abside interamente e che racconta proprio la storia del protomartire di Santo Stefano, la sua accusa davanti al sinedrio, la lapidazione, il martirio e la sepoltura. Lattanzio Gambara veramente in quest'opera supera se stesso, fa un'immagine potremmo dire veramente cinematografica, un unico piano sequenza che è maestria virtuosistica proprio da un punto di vista dell'illusionismo pittorico. Un'opera tutta da vedere e da scoprire che recentemente è stata restaurata. Certo, ahimè, purtroppo nell'Ottocento è stato fatto il nuovo altare neoclassico, un bell'altare da parte di Leopoldo Pollack, ma questo altare è andato a coprire parzialmente proprio la visione. Resta il fatto che questo affresco è qualcosa di straordinario. Nei restauri degli anni Ottanta è stata scoperta anche la firma e quindi è stato ricondotto sicuramente all'attanzio Gambara e anche l'anno di esecuzione, 1566, che è un anno molto interessante perché sappiamo che da pochi mesi San Carlo Borromeo era alla guida della diocese di Milano e proprio in quell'anno è venuto a Vimercate in visita pastorale. Quindi non è stato San Carlo Borromeo a commissionare all'attanzio Gambara questo capolavoro. Però è molto interessante che questo affresco, quest'opera pittorica, ha tutti i canoni proprio che sarebbero piaciuti allo stesso San Carlo, quei dettami poi proprio del concilio di Trento. Un'arte, una pittura che doveva suscitare ammirazione, devozione da parte dei fedeli, quindi senza orpelli, decorosa e soprattutto rispettosa della pagina biblica. Esattamente come fa l'attanzio Gambara in forma altissima in questo capolavoro a Vimercate.